Rapina cruenta poco prima della chiusura in una sala giochi e sala scommessa in pieno centro a Termoli. Due uomini con il volto coperto da un passamontagne armati di un coltello e di un fucile hanno fatto irruzione alla Planet Win che si trova tra via Duca degli Abruzzi e via 4 Novembre. Tra le urle hanno minacciato alcuni clienti presenti in quel momento e l'unico dipendente che è stato colpito al volto a quanto pare con il calcio del fucile. Obiettivo i soldi che sono riusciti a prendere in pochi istanti per poi fuggire a piedi. Circa 2.000 euro il bottino. Sotto shock alcuni clienti primi a chiamare carabinieri e 118. Il ragazzo colpito al volto 33 anni è stato portato in pronto soccorso in stato confusionale. A quanto pare è accennato a una reazione ed è stato colpito dai malviventi. Arrivati sul posto i carabinieri del nucleo radiomobili agli ordini del luogotenente Giuseppe Nestola hanno subito raccolto le testimonianze e visionato i filmati delle telecamere che hanno registrato i momenti della rapina per capire meglio la dinamica e cercare di risalire agli autori del gesto. Un colpo messo a segno a due passi dal municipio e che ha fatto scattare subito il piano antirapina con diversi posti di blocco. Le immagini delle registrazioni sono molto chiare e gli autori della rapina potrebbero anche essere del posto. I carabinieri dunque potrebbero chiudere il caso in poche ore. I carabinieri dunque potrebbero chiudere.